Abbiamo introdotto l'insieme dei numeri naturali che è stato rappresentato attraverso una semiretta e su questa semiretta una serie di punti equidistanziati l'uno dall'altro, quindi con lo stesso spazio tra un punto e l'altro rappresentavano in qualche modo geometricamente i numeri naturali. E si passava da un numero naturale al successivo, il successivo ancora e così via. Su questi numeri naturali c'è l'esigenza di definire un certo numero di operazioni che su di essi si possono fare e qual è il risultato che queste operazioni hanno nel momento in cui vengono eseguite. Si va a definire un'operazione, la prima che si definisce, che è l'operazione di addizione. L'operazione di addizione è un'operazione che parte appunto dall'avere due numeri naturali, possono essere due numeri qualsiasi appartenenti all'insieme dei naturali, prendiamo il numero 2 ed il numero 3. Questi sono due numeri naturali, bisogna scegliere un simbolo per rappresentare l'addizione e il simbolo che si sceglie è questo qui. 2 più 3 è una nuova operazione che è definita avendo due elementi che appartengono ai naturali. Come si va ad eseguire quest'operazione? Si prende il primo dei due elementi e lo si posiziona sulla semiretta che rappresenta tutti i numeri naturali. A quel punto l'operazione di somma si traduce in un'operazione geometrica che è quella di andare a destra del numero 2 di tante posizioni, una posizione, due posizioni, tre posizioni, tre posizioni, il numero di posizioni che devo scorrere a destra è pari al secondo numero che sto sommando. Si arriva quindi in un punto che è questo, che risulta essere uguale il risultato di questa somma. Quindi il risultato della somma di 2 più 3 risulta essere 5 perché spostandomi di tre posizioni dalla posizione 2 di partenza, che è quella del primo numero, arrivo alla posizione numero 5. Proviamo a fare un'altra operazione con lo stesso tipo di criterio e l'operazione che faccio è 3 più 2. Ho preso gli stessi numeri e li ho invertiti. Vediamo che effetto ha questa inversione. Intanto cambia il punto di partenza. Prima il punto di partenza era 2, adesso il punto di partenza è 3. Il punto di partenza risulta essere 3, quindi questo è il mio punto di partenza. L'operazione di addizione abbiamo detto che è un'operazione che letta dal punto di vista geometrico mi fa andare dal mio punto di partenza, questo qui è il mio start, dal mio punto di partenza verso destra di quanti salti? Quindi un salto, devo addizionare 2, un altro salto. Quello che accade è che arrivo nel medesimo punto precedente, che è il punto identificato poi dal numero 5. Questo fatto che il risultato è avvenuto lo stesso verrà poi di seguito commentato. Questa è la modalità con la quale si può almeno inizialmente tradurre l'operazione di addizione in un'operazione che ha un impatto di tipo geometrico e che quindi è più intuibile inizialmente. Se vado a sommare per esempio questo numero 5 a un altro numero che è 4, cambia il mio punto di partenza, in questo caso il mio punto di partenza è l'arrivo che avevo prima, a questo punto devo sommare 4, cioè mi devo muovere verso destra di una posizione e arrivo a 6, la seconda posizione arrivo a 7, la terza posizione arrivo a 8, la quarta posizione ed arrivo al punto agganciato al numero 9. Il risultato di questa addizione risulta essere quindi 9. Questo tipo di modalità con la quale fare l'operazione è una modalità da utilizzare all'inizio quando ancora la definizione non è chiara, le prime operazioni, dopo un po' il fatto che 5 più 4 venga 9 diventerà un pochino più automatico. E cosa succede se, per esempio, al mio 5 io vado a sommare 0? Beh, il mio punto di partenza era 5, quindi parto sempre da qui, la partenza è 5 e devo andare verso destra di tante posizioni quant'è il secondo numero che ho scritto. Il secondo numero che ho scritto è però 0, quindi io da 5 non mi muovo, e se non mi muovo vuol dire che rimango in quel punto e che 5 più 0 è un'operazione che dà come risultato 5 stesso. Cosa succede se per caso inverto questi due numeri? Cioè se è a 0, sommo 5. Beh, se è a 0, sommo 5, è cambiato il mio punto di partenza, che è 0. Applico la regola geometrica, che è quella di saltare di tanti punti quanti ne identifichi il numero successivo, 1 punto, 2 punti, devo arrivare a 5, 3 punti, 4 punti, 5 punti. Beh, arrivo a 5, scrivo che il mio risultato è 5, accorgendomi che è lo stesso risultato che avevo ottenuto prima. Possiamo leggere queste due operazioni che abbiamo effettuato, cercando di ricavare qualche informazione di carattere generale. Un'informazione di carattere generale è quella relativa al numero 0. Beh, mi sono accorto che lo 0 sommato a 5 non modificava il numero stesso, oppure se a 0 sommo un numero, la somma è proprio uguale al secondo numero che sto mettendo. Vuol dire che la somma con un numero che è 0 sostanzialmente non cambia il numero stesso. Questo modo di dire che caratterizza il numero 0 può essere identificato dicendo che il numero 0 è un elemento, sicuramente è un elemento che appartiene a n, perché l'ho preso dall'insieme dei naturali, ma è un elemento neutro, cioè un elemento che non va a modificare il risultato della somma se questo elemento è utilizzato nella somma, quindi è un elemento neutro. Bisogna specificare qual è l'operazione per la quale lo 0 è un elemento neutro, per l'operazione, ovviamente, di somma. Se dovesse cambiare l'operazione che sto facendo, beh, non è detto che quello 0 continui ad essere l'elemento neutro. Intanto lo 0 è l'elemento neutro per l'operazione di somma. Quindi a qualsiasi numero io lo sommi, il numero di partenza non cambia. 9 più 0 rimane 9, 10 più 0 rimane 10 e così via. Vediamo cosa è accaduto, per esempio, quando evidenzio queste due operazioni nel riquadro, quando io avevo un'inversione dei termini che stavo sommando. Ah, cominciamo a dare i nomi corretti. Nel momento in cui ho un'operazione di somma, 3 più 2, per esempio, questi due termini prendono il nome di addendi. Addendi. Sono entrambi addendi e sto facendo con degli addendi un'operazione di somma. Beh, mi accorgo che 3 più 2 faceva 5, che era anche però il risultato dell'operazione 2 più 3. Quindi l'operazione 2 più 3, che ha gli addendi invertiti, e l'operazione 3 più 2 mi dà lo stesso risultato, vuol dire che l'operazione di somma è un'operazione che possiede una proprietà. Questa proprietà è detta proprietà commutativa. Commutativa. Cioè, se commuto, cioè scambio, la posizione dei due termini, non cambia il risultato. Ovviamente 1 più 3 sarà uguale a 3 più 1, e uguale a 4 in particolare. L'importante è che, appunto, scambiando gli addendi, il risultato non cambia. Altra cosa importante. Immaginiamo che ad un'operazione 2 più 3 io aggiungo, senza completare questa operazione precedente, il termine che è 5. Vado a vedere qual è l'effetto di questa ulteriore somma sul risultato. Procedo adottando, almeno per queste prime volte, la regola che avevamo detto, che implicava dei salti di 1 verso destra, tanti salti, quanto era grande il secondo addendo che stavo sommando, e procedo facendo 2 più 3. Sono nella posizione di partenza 2 e procedo verso destra con 3 salti. Un salto mi porta a 3, un altro salto mi porta a 4 e un ulteriore salto mi porta a 5. Ho quindi sommato i primi due addendi e sono arrivato fino a 5. Ho da sommare un altro numero, che è 5. Quindi devo procedere dal risultato che avevo ottenuto precedentemente attraverso, questi sono stati 3 salti, attraverso 5 salti ulteriori verso destra. 1, 2, 3, 4, 5. 5 salti, che sono appunto l'entità numerica che corrisponde al terzo addendo, sono arrivato al numero 10, che è il risultato di quest'operazione a 3 addendi, quindi ottenuto in quel modo. Se in questo caso io procedo dicendo, per esempio, che invece che sommare il 2 a 3, effettuo prima l'operazione di sommare 3 a 5, voglio vedere qual è l'effetto sull'operazione complessiva. Quindi io prima sommo 3 con 5. Se sommo 3 con 5 sono qui come punto di partenza e l'effetto di questa somma è andare verso destra di 1, 2, 3, 4, 5 posizioni complessive. Sono andato verso destra di 5 posizioni complessive. Che cosa ho fatto? Ho raggiunto complessivamente il numero 8. Questo numero 8, risultato dell'accorpamento, o meglio della somma di questi due addendi, andava sommato con questo numero 2. Posso a questo punto prendere il numero 2 e sommarci questo numero 8. Se prendo il numero 2, è questo come punto di partenza, e se vado 8 posizioni più a destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raggiungo il numero 10. Stesso numero che avevo raggiunto nel momento in cui avevo sommato il 2 a 3 e a questo risultato avevo ulteriormente sommato 5. Cioè nel momento in cui ho 3 addendi, è indifferente l'ordine con cui li sto sommando. Cioè io potrei sommare prima questi due e ottenere, come abbiamo visto, il risultato che è 5 e a questo risultato sommare il 5 che mi è rimasto e andare a 10. Oppure sommare il 3 con il 5, ottenere 8, e a questo risultato sommare il 2 e ottenere 10. Cioè c'è una libertà da parte mia nell'accorpamento delle singole operazioni. Questa libertà, cioè di fare le operazioni, con l'ordine che a me, diciamo, conviene di più, allora ha una proprietà che va identificata. Quella di prima era la proprietà commutativa, quella attuale è una proprietà che mi permette di associare coppie di elementi sui quali faccio una somma, associarli come voglio, è una proprietà che va sotto il nome di proprietà associativa. Proprietà commutativa, proprietà associativa, abbiamo cominciato a lavorare con l'operazione di addizione. L'operazione di addizione, abbiamo detto, è un'operazione che mi fa fare dei salti verso destra e tanti salti pari agli addendi che sto comunque lavorando. Beh, se io faccio dei salti verso destra, qualsiasi sia il numero che sto sommando all'interno dei numeri naturali, il risultato sarà sicuramente all'interno dei numeri naturali, perché vi ricordo che i naturali sono infiniti, in particolare, appunto, crescono indefinitamente verso destra. Quindi, qualsiasi cosa io sommi, qualsiasi numero naturale io sommi, l'operazione di salto mi manterrà sempre dentro all'insieme dei numeri naturali. Si dice che l'operazione di somma, la somma, è un'operazione interna ad n. Con questo si intende che il risultato di questa operazione, prendendo due elementi che appartengono ai numeri naturali, è esso stesso, in questo caso, per esempio, il risultato è 5, il risultato di 2 più 3, è esso stesso un elemento che apparterrà sicuramente ai numeri naturali. Quindi, la somma è un'operazione interna ai numeri naturali.